Ciao a tutti e bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo la seconda maglia della Roma per la stagione 22-23 in edizione fan, la maglia dedicata ai tifosi. La seconda maglia della Roma per la stagione 22-23 è prevalentemente bianca con rifiniture gialle e rosse. Sul davanti c'è un motivo astratto in toni di grigio che impreziosiscono la maglia. Il colletto è a V con bordatura secondo i tradizionali colori della squadra giallo-rossa. Il retro della divisa è personalizzato con la scritta Figli di Roma, la cui O è formata dallo stemma con il lupetto. Un richiamo a un celebre striscione della curva sud e un omaggio al legame tra la città e la squadra che ne porta il nome in tutto il mondo. Questa maglia in poliestere è dotata della tecnologia New Balance Dry che allontana l'umidità per aiutarti a mantenere la pelle fresca anche quando la partita si riscalda. A me la maglia piace, nella mia classifica prende tre stelle. Diciamo così è una maglia abbastanza semplice, bella la sfumatura di grigio che crea questo contrasto, però non è una delle mie preferite. Il costo lo vedete qui sopra che per questa maglia fatta così bene e con dei tempi di spedizione così veloci è molto conveniente e vi invito ad andare a vedere sul sito quali offerte vi attendono. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi andate a vedere quali bellissime maglie aspettano il vostro acquisto. Ora vi lascio alla parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere quali altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.